permesso? un giorno... posso? un giorno... pure la cartellina devi portare... dite... voglio nemmeno parlare un po' la casa mi salta a fare piazza pulita e salta a fare subito... ma in che modo posso esservi utile? ci servono le scopi! ci servono le scopi! quando stavo là inondola siamo a mettere una scopi a mano e alluccavano la polizia... polizia! e dagli scopi tu non mi arrivavano mai... ma calmatevi, calmatevi! ho qui la novità per voi... le nuove scopi papa! buona... e ora... ci proviamo tutte quelle che ho mostrato aiuto... ho lì in zona soli chi sta in zona mia? tu fai il tuo soggiorno e ora vieni... vieni... vieni a spigliare la paletta... vieni... non le scopi papa... non ci vuoi la paletta... ma campagna... in quel momento... non ci vuoi la paletta...